Torniamo a chiedere dal sindaco dopo la pausa dell'8 dicembre. Torniamo puntuali con la trasmissione del martedì sera per parlare con il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli. Buonasera a tutti. Lei è Reduce quest'oggi da un incontro che si è svolto a Roma, lei e il consigliere Mimmo di Benedetto vi siete legati a Roma per incontrare il capo della segreteria del ministro Guidi sulla vicenda SNAM. Innanzitutto che cosa è emerso da questo incontro? Un incontro interlocutorio, abbiamo avuto modo di esporre al capo di gabinetto l'avvocato Cozzoli tutta la procedura e le nostre preoccupazioni per quanto riguarda l'iter. ITER che si è concluso presso la presidenza del Consiglio dei Ministri che vede oggi inviata tutta la documentazione per l'autorizzazione della centrale alla presidenza del Consiglio per le missioni del decreto. E quindi abbiamo chiesto al capo di gabinetto di riportare le nostre preoccupazioni soprattutto al fatto che non si è data attuazione alla risoluzione parlamentare del 2011, approvata all'unanimità da tutte le forze politiche e dei parlamentari, in commissione ambiente, risoluzione che impegnava il governo alle istituzioni di un tavolo tecnico per la verifica delle alternative. Noi riteniamo che questo tavolo tecnico non si sia svolto effettivamente con delle analisi tecniche per quanto riguarda l'alternativa al metanodotto e alla centrale, quindi al percorso. Abbiamo evidenziato come l'ultima riunione del primo di ottobre è stata conclusa con dei forti dissapori, con una lide tra il Presidente della Regione Abruzzo e l'allora Vice Ministro De Vincenti. E quindi abbiamo chiesto di rappresentare al Ministro questa situazione per chiedere la riapertura di questo tavolo per quanto riguarda le alternative. Quindi è stato un rapporto interlocutorio con un impegno da parte del capo di gabinetto di riferire immediatamente questa situazione. Domani saremo di nuovo a Roma per una conferenza stampa al Senato convocata dai comitati, ma dove saranno presenti tutti i parlamentari abruzzesi, perché riteniamo opportuno che questa richiesta non venga fatta solo dal Comune di Sulmona, ma anche dalla Regione, dalla Provincia e dai parlamentari. Ed ecco il perché della conferenza stampa e quindi io credo che queste nostre richieste sono legittime, oltre a tutte le altre opposizioni e osservazioni che abbiamo inserito nei verbali fatti sia presso il Ministero Sviluppo Economico, sia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine alla procedura. C'è una novità perché l'altro ieri è stato approvato un emendamento importante in Parlamento per quanto riguarda la procedura di Ombrina Mare. Io ritengo che, come ho già detto altre volte, la forza politica che si è espressa nell'ambito delle pressioni sul governo Sombrina Mare sia stata diversa, quindi più forte rispetto alle problematiche di questo abruzzo interno. E quindi anche questo sarà un oggetto di discussione domani che io evidenzierò ai nostri parlamentari chiedendo un intervento, un impegno diretto affinché ci sia uno stesso trattamento per quanto riguarda le problematiche che poi sono problematiche di tipo energetico, che riguardano la regione Abruzzo, che riguardano tutti i territori e che vedono purtroppo il nostro comprensorio, il nostro territorio colpito da questo insediamento ma la nostra regione colpita dal percorso del metanodotto. Sì, però come facevano notare ieri in conferenza stampa i Comitati Cittadini per l'Ambiente l'obiettivo era un altro, l'obiettivo non era quello di incontrare oggi il capo della segreteria del Ministero dello Sviluppo Economico ma incontrare proprio il Ministro Guidi anche perché nella recente risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale si dà mandato al governatore D'Alfonso di chiedere un incontro con il Ministro Guidi e quindi D'Alfonso, dobbiamo dedurre che D'Alfonso non ha dato seguito a quello che era previsto nella risoluzione approvata dalla Commissione del Consiglio regionale. Lei si è sentito con D'Alfonso, gli ha detto perché non ha convocato questo incontro con il Ministro? Io naturalmente non so le azioni che ha fatto il Presidente della regione Abruzzo direttamente sul Ministro. Come Sindaco della città in rappresentanza e in esecuzione anche delle delibere consigliari che abbiamo approvato in Consiglio ho ritenuto opportuno avviare un'iniziativa autonoma con una lettera scritta il 26 di novembre e con una richiesta pressante di incontro presso il Ministero anche attraverso le forze politiche e le forze parlamentari. È arrivata questa convocazione qualche giorno fa e quindi ho ritenuto opportuno aprire comunque un dialogo con il Capo di Gabinetto per ritornare sulle questioni che sia in conferenza dei servizi che alla presenza del Consiglio dei Ministri non sono state prese in considerazione e quindi anche questa strada è opportuno proseguirlo naturalmente. Ho avvisato il Presidente D'Alfonso che stamattina c'era questo incontro e che avrei espresso tutte le mie perplessità in ordine alla procedura e quindi ho rinnovato l'impegno anche ad attivarsi come Regione Abruzzo affinché io penso ci siano ulteriori incontri dopo questo si possa esprimere nella massima chiarezza queste nostre problematiche. La nostra preoccupazione è che siamo alla vigilia voglio ricordare un po' a tutti i concittadini che il CAC di Unione importante era stata convocata proprio a ridosso delle feste estive quindi una preoccupazione che in questo decreto potesse in qualche modo essere adottato subito. C'è una riunione del Consiglio dei Ministri programmata per il 21 pare che questo argomento non sia all'ordine del giorno comunque dovrà esserci una decisione da parte di Renzi con il Presidente della Regione e quindi domani sono a rinnovare anche l'impegno da parte della Regione di riaprire questo tavolo tecnico perché solo con la riapertura del tavolo tecnico per le alternative si può riaprire un discorso su questa procedura. Ci vuole una volontà politica forte. Se non sbaglio ci sarà un incontro nei prossimi giorni proprio per valutare l'alternativa al metano d'osso? Sì, io giovedì ho ritenuto opportuno convocare insieme ai capi gruppo insieme ai comitati anche un progettista che aveva già incaricato la Regione Abruzzo per quanto riguarda un progetto alternativo che era quello del passaggio al mare e quindi la presenza di questo progettista serve per farci capire bene fin dove si era arrivati, quali erano le problematiche quali erano le possibilità dal punto di vista tecnico e ritengo opportuno mettere in campo tutte le azioni per depositarle poi sul tavolo tecnico-istituzionale che io spero venga riaperto in modo da poter ragionare su progetti concreti anche perché la posizione che c'era stata sia del Ministero Sviluppo Economico soprattutto della SNAM era un'impossibilità del passaggio era un'impossibilità del percorso del metano d'otto a mare ma senza dati numerici e senza progetti quindi io ritengo che sia opportuno fare questo anche perché nei verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 con allora la presenza del Governatore Chiodi e con il tavolo del 12 settembre 2014 alla vigilia della manifestazione che noi abbiamo fatto qui al Cinema Pacifico i verbali fanno riferimento solamente a dati numerici e non supportati da situazioni tecniche Benissimo e vedremo nei prossimi giorni era doveroso dedicare l'apertura di questa trasmissione alla vicenda SNAM anche perché questa mattina c'è stato appunto l'incontro con il capo della segreteria del Ministro Guidi adesso introduciamo gli altri argomenti che saranno in discussione questa sera e lo facciamo come al solito con la nostra scheda di presentazione Torna chiedetelo al Sindaco per analizzare i fatti degli ultimi giorni con il primo cittadino di Sulmona, Peppino Ranani oltre alla vicenda SNAM ci sono altre questioni impellenti da risolvere che richiedono la massima urgenza tra tutti il collettore turistico dei FAS in quanto ulteriori prescrizioni da parte della sovrintendenza costringono ora ad una variante al progetto c'è il forte rischio a questo punto di perdere il finanziamento di 1,8 milioni di euro in quanto senza l'ok da parte della sovrintendenza diventa un problema procedere all'appalto entro il 31 dicembre c'è comunque la speranza di una proroga in quanto non ci sarebbe ancora la delibera Cipe e sembra che non sia stato firmato l'accordo di programma quadro con il Ministero la città attende il collettore turistico come il nuovo piano della protezione civile a farlo notare il consigliere comunale Daniele Delmonaco nella puntata di venerdì scorso di parola alla minoranza Il sindaco ha annunciato qui, ha chiedetelo al sindaco l'approvazione del piano di protezione civile stiamo ancora aspettando l'approvazione del piano di protezione civile Delmonaco ha fatto inoltre notare che quando ancora in maggioranza deteneva la delega alla protezione civile suggerì la stesura di un documento di informazione alla popolazione per indicare come comportarsi in caso di emergenza ma il sindaco ha detto Delmonaco non diede ascolto ai miei suggerimenti e ora ci troveremmo impreparati di fronte a particolari necessità per l'esponente della minoranza insomma manca a riguardo una politica di informazione nei confronti della cittadinanza perché la politica si fa con i cittadini e non solo a Palazzo San Francesco e il messaggio lanciato dal palco del Pacifico dal consigliere comunale Luigi Racivita in qualità di presidente dell'Associazione Intese Abruzzo che la scorsa domenica ha promosso il primo laboratorio di politica attiva dal basso denominato Un'altra Sulmona Il Pacifico la scorsa domenica è stato dunque utilizzato come luogo di confronto ma i cittadini chiedono a gran voce la riapertura della sala cinematografica non solo perché il Sulmona Cinema ancora una volta dovrà tenersi al Soul Kitchen ma per riappropriarsi di una struttura importante l'assessore alla cultura Luciano Marinucci sulla destinazione d'uso del Pacifico oltre alla promessa di dotare la sala di un'apparecchiatura digitale ha espresso la volontà di convocare un tavolo tecnico con istituzioni, associazioni ed imprenditori Nel frattempo la sovrintendenza ha restituito le chiavi dell'auditorium dell'annunziata è stata inaugurata la rotatoria in via Sallustio e si sono conclusi i lavori del contratto di quartiere con il conseguente avvio della fase del bando per l'assegnazione dei 64 alloggi per giovani coppie, anziani, disabili e studenti Dopo le festività natalizie partiranno grazie ad un primo stanziamento di 250.000 euro i lavori di riparazione del manto stradale con la sostituzione dei vecchi arredi urbani per posizionare i nuovi dove mancano Il progetto definitivo di restyling del salotto cittadino è stato approvato nei giorni scorsi dall'Aggiunta Nel progetto più generale della riqualificazione dovrà essere stabilita una tabella di marcia per partire da subito con una sperimentazione dei nuovi orari della ZTL dopo aver ascoltato tutti anche i promotori della sottoscrizione Tutto dovrà avvenire in maniera trasparente cosa che invece non è accaduto sui redditi di sindaco, assessori e consiglieri in quanto sul sito istituzionale del Comune non c'è alcuna traccia della documentazione Gli amministratori di Palazzo San Francesco insomma sono tutti inadempienti per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi che non è avvenuta entro il 30 ottobre Comune di Sulmona anche moroso per le bollette telefoniche in quanto la TIM ha richiesto il pagamento di arretrati di circa 20.000 euro al fine di non procedere alla sospensione delle utenze TIM, messaggio gratuito Siamo affiacenti il numero da lei chiamato non è attivo Sindaco allora sono ancora attivi i telefoni a Palazzo San Francesco sono stati pagati questi 20.000 euro di arretrati alla TIM? Forse avete sbagliato a mettere l'immagine mia su quello spot finale Ecco a parte la battuta Forse andrebbero metterci Lo so dove vuole arrivare quindi è giusto che si faccia chiarezza e si individuino i responsabili Bisogna metterci le fotografie di chi oggi viene pagato per fare quel lavoro e per tenere sotto controllo non solo le attività più elementari che sono quelle del pagamento delle bollette del telefono o delle utenze perché il Sindaco fa la supervisione dell'attività amministrativa e come abbiamo potuto notare anche dalla scheda i problemi ce ne stanno e ce ne stanno tantissimi Così come non è compito del Sindaco o dei singoli consiglieri comunali preoccuparsi di inviare la documentazione reddituale al Comune ma probabilmente questa attività è un'attività che gli uffici fanno e quindi scrivono e chiedono documentazione così come abbiamo fatto quando ci siamo insediati oppure abbiamo fatto in altre occasioni per la trasparenza durante le norme tecniche Responsabilità del segretario del segretario generale Io non parlo di responsabilità personale io parlo di un'attività amministrativa che è un'attività che non può stare nell'agenda del singolo consigliere o del sindaco o dell'assessore con tutti i problemi che ci sono fermo restando che naturalmente la presentazione della dichiarazione di reddit è un obbligo di legge che viene sanzionata pesantemente con sanzioni amministrative e anche penale qualora ci siano omissioni di imposte e quindi sono pubbliche sono state trasmesse all'agenzia delle entrate e quindi questi obblighi che poi sono legati alla trasparenza amministrativa non sono solo gli obblighi della presentazione delle dichiarazioni di reddit sono anche quelle delle situazioni patrimoniali degli assessori in carica degli assessori cessati per un periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico perché ci sono delle incompatibilità di legge così come tutta un'altra serie di notizie che poi devono essere pubblicati e sono degli obblighi precisi che riguardano la trasparenza e l'anticorruzione noi abbiamo approvato un regolamento una parte del regolamento fu approvato dal commissario Guetta alcuni aggiornamenti sono stati approvati durante la mia consigliatura e quindi si dà mandato poi ai dirigenti per chiedere l'esecuzione di quel regolamento quindi noi non abbiamo nulla da nascondere siamo trasparenti così come penso che un sindaco non debba occuparsi del pagamento materiale delle bollette telefoniche del telefono quindi sta dicendo che gli uffici non funzionano perché se si accumulano 20.000 euro di telefonate e se gli uffici non dicono ai consiglieri agli assessori e al sindaco stesso che bisogna presentare la dichiarazione dei redditi lei sta dicendo che gli uffici non funzionano io dico anche che ci sono state tutta una serie di norme che si sono accavallate quest'anno che hanno creato non sono tanti problemi non solo per le fatture delle utenze ma per tutta un'altra serie di fatture presentate dal comune c'è stato l'inserimento obbligatorio della fattura elettronica c'è stato il sistema dell'IVA con lo split nel senso con l'addebito del pagamento dell'IVA alle imprese piuttosto che al comune e quindi sicuramente alcuni di questi problemi sono derivati da questa situazione nella prima parte della legislatura era stata fatta una ridistribuzione degli incarichi con deleghe del pagamento passate al settore tecnico per verificare i contratti fatti perché spesso ci siamo accorti che arrivavano da una verifica generale dei nostri contratti si pagavano fatture anche per contratti non più in corso oppure per utenze non utilizzate o per contatori non contabilizzati nella riorganizzazione nella prima fase di riorganizzazione che è approvata dall'aggiunta il 5 di novembre questa competenza è stata riassegnata al secondo settore economico e finanziario che provvederà naturalmente essendo voi il cuore della parte finanziaria a liquidare queste bollette e anche quindi la parte arretrata certo adesso veniamo ai problemi della città i tanti problemi che sono stati elencati nella nostra scheda vi ricordo che se avete delle domande da fare al sindaco Ranalli potete farlo telefonando allo 0864 54215 oppure scrivendo una mail all'indirizzo ondatvusulmona chiocciola.iau.it sindaco la questione del collettore turistico dei FAS si rischia di perdere il finanziamento io ho già avuto di spiegare nelle precedenti trasmissioni quali sono stati problemi legati a tutto l'iter dei fondi FAS da quando sono stati acquisiti alla presentazione del progetto alla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro e alle stazioni appaltanti quella del comune di Sumone e quella di Pratola che hanno gestito i 2 milioni e 400 mila euro dei fondi FAS la procedura è partita è stata suddivisa in tre lotti quella è stata avviata da prima la gara per quanto riguarda la ristrutturazione di Palazzo Colella di Pratola che mi sembra sia in corso e agli sgoccioli e quindi diciamo che la procedura nella sua complessità si è avviata c'è un problema rimane ancora un problema tra alcuni pareri a cui il comune si è adeguato naturalmente alcune prescrizioni da parte della sovrintendenza da parte del genio civile oggi ci troviamo in una situazione dove per la messa in sicurezza di quell'area soprattutto quella dell'alve del fiume abbiamo due pareri discordanti il genio civile che ci dice che dobbiamo procedere con dei gabbioni proprio per la messa in sicurezza in caso di l'alluvione la sovrintendenza che ci dice che dobbiamo utilizzare le terre armate e quindi il comune sul mona il comune sul mona sta in mezzo c'è la data del 31 dicembre si io ritengo comunque ci se la fa ad andare all'appalto per il 31 dicembre ma penso che con la procedura divisa in lotti col primo lotto già appaltato si possa arrivare ad un progetto di finanziamento che nella sua complessità prevede queste tre situazioni di cui la prima è in corso in fase di definizione non ci sarà possibilità di protoga questo io non lo so perché dipende anche dalla pubblicazione sul CIP dipende anche dall'azione che farà la regione sicuramente le obbligazioni devono essere mi sembra come dicevo anche nella scheda non è stato pubblicato nulla devono essere quindi stiamo lavorando e monitorando tutti i giorni questa situazione certamente la cosa che io ho espresso agli uffici ho espresso anche alla sovrintendenza che si tratta di un'opera importante per la nostra città che si tratta di un'opera che deve dare le risposte ad una parte della città fino ad oggi trascurata e io penso che con quel progetto noi riusciremo a dare delle risposte importanti parliamo adesso di protezione civile sindaco perché nella puntata di venerdì scorso di parola alla minoranza il consigliere comunale Daniele Delmonato ha detto che non è stato ancora attuato il nuovo piano della protezione civile nonostante l'annuncio che lei aveva fatto proprio da questa televisione da questa trasmissione cosa ci può dire perché ancora si mette mano al nuovo piano di protezione civile non è che non si mette mano ci si è messo mano a che punto si trova stiamo lavorando stiamo lavorando su quel piano voglio ricordare che la delega era del consigliere comunale sul quale io avevo avviato una serie di iniziative e che naturalmente poi ho proseguito nel momento in cui la delega è stata rimossa a quel consigliere comunale sono state fatte le attività informative previste dalla legge con le manifestazioni promosse dalla nostra protezione civile abbiamo già ottenuto un resoconto per quanto riguarda l'individuazione delle aree di sgombero abbiamo elaborato quel documento di informazione alla protezione alla popolazione che in qualche modo era già stato comunicato nei giorni in cui sono state quelle manifestazioni quindi c'è quel documento che diceva del Monaco è quello del Monaco ha lavorato su due pagine di documento informativo che poi sarà trasmesso anche da parte di questa emittente televisiva diverso invece l'impegno sul piano di protezione civile che va aggiornato va rettificato anche in funzione di quella che è l'evoluzione nel corso di questi anni e stiamo a buon punto e quindi poi mi riserverò di comunicare la data in cui verrà portata in commissione in consiglio comunale ha finito sulla protezione civile? no 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 volevo dire questo che già nel bilancio di previsione io avevo stanziato una somma cospicua rispetto agli interventi di protezione civile anche degli anni precedenti per la precisione 30.000 euro nel momento in cui noi abbiamo dovuto affrontare quell'emergenza i 30.000 euro naturalmente erano per le attività infrastrutturali erano per la radiazione del piano erano per tutte le attività connesse c'è stato il problema degli eventi di cattivo tempo soprattutto quelli legati all'ultima nevicata con l'abbattimento degli alberi con l'eliminazione con la mancanza di corrente elettrica e quindi buona parte di quei soldi sono stati utilizzati per gli interventi di somma urgenza che la regione Abruzzo ci ha ci ha rimborsato in parte e quindi nell'ultima variazione del bilancio è stato rimpinguato il capitolo con una somma naturalmente esigua ma che servirà naturalmente per produrre quella documentazione di informazione che noi distribuiremo ai nostri concittadini ecco un altro punto un altro argomento toccato sempre dal Consiglio non chiedo scusa è un'altra cosa che abbiamo fatto perché voi me ne scordo le cose che faccio noi abbiamo sottoscritto un'importante convenzione con l'ingv e questa è la notizia che forse non avevate l'ingv sarà presente nel territorio di Sulmona perché grazie a questa convenzione abbiamo stiamo aprendo abbiamo già sottoscritto la convenzione con l'ingv e abbiamo individuato gli spazi ma adesso è stata sottoscritta qualche 20 giorni fa l'ingv è rientrata firmata stabiliremo una data con il presidente dell'ingv regionale per cui nella convenzione sono previste tutta una serie di attività che l'ingv farà sul territorio comunale ho già ascoltato in modo informale lo farò in modo ufficiale uno dei responsabili per quanto riguarda il problema connesso al rischio sismico del metanodotto in una riunione fatta qualche giorno fa e fra qualche giorno saranno allestiti stiamo finendo di allestire gli uffici presso la nostra protezione civile il gruppo di protezione civile nella zona industriale e quindi con l'ingv si avvieranno una serie di progetti che poi ci porteranno ad una verifica non solo dello stato dello studio della microzonizzazione sismica del territorio ma sicuramente anche un confronto per quanto riguarda i piani di protezione civile sempre il consigliere del Monaco ha fatto notare che è stato interrotto quel servizio che aveva fatto lui istituire si tratta del servizio Ponte Europa cioè quel portale per avere informazioni sui bandi europei perché non c'è più questo servizio sul sito istituzionale del Comune? non è che non c'è sul sito istituzionale quel servizio era stato affidato al CST che è un servizio territoriale che è la società informatica di cui partecipa il Comune di Sulmono il Comune di Avezzano le comunità montane per quanto riguarda l'informatizzazione la gestione di alcuni progetti molto importanti per i 30 comuni del territorio io avevo quanto il Consigliere del Mono non era ancora Consigliere Comunale ma era un semplice militante investito su una sua formazione anche con una corso di formazione molto importante che si è svolto a Roma in rapporto direttamente con la comunità economica europea e quindi avevo affidato a lui quella delega proprio perché ritenevo che potesse avviare e potesse spingere su quel progetto purtroppo poi per questioni legate ad una non partecipazione dice lui ma soprattutto mi ricordo che c'era quel problema dell'esternalizzazione dei rifiuti del Coggesa con una penso una un'azione di provocazione ma in senso buono anche nei miei confronti del fatto che si avevano questa emergenza rifiuti che c'era questa una fotografia particolare mi sembra anche in una zona periferica della città dove voi sapete c'è ancora il problema di chi farà raccolta e non farà raccolta differenziata e viene a scaricare i rifiuti nei cassonetti periferici ci fu una reazione per cui c'è stato questo allontanamento dalla maggioranza che io probabilmente ho contestato perché poi le situazioni si dicono all'interno della maggioranza e si portano avanti le deleghe e gli impegni affidati oggi questa delega importante è stata affidata al vice sindaco Taglieri che sta lavorando abbiamo sottoscritto convenzioni e lo sportello Europa è stato finanziato con con 5 mila euro dell'annualità 2014 e con circa 3 mila euro dell'annualità 2015 e quindi entrerà in funzione operativamente a supporto dell'amministrazione comunale e a supporto poi anche dei nostri concittadini nei primi mesi dell'anno 2016 sindaco la politica si fa con i cittadini non solo a Palazzo San Francesco e questo è il messaggio che ha lanciato il consigliere comunale di forza italia Luigi La Civiti in qualità di presidente dell'associazione intese Abruzzo che la scorsa domenica al cinema pacifico ha organizzato quel laboratorio sulla politica che parte dal basso mi sembra questa sia stata la formula la politica dunque si fa con i cittadini secondo lei i partiti stanno svolgendo questo ruolo? La domanda è abbastanza complessa innanzitutto la politica si fa esercitando fino in fondo il ruolo di consigliere comunale che quindi è il mandato che è stato dato dagli elettori e io penso che al consigliere La Civita che poi è stato il mio antagonista nella candidatura al sindaco di questa città ha tutti gli strumenti per farla a nome di quelle persone da cui è stato votato all'interno degli organi istituzionali dell'ente quindi all'interno del consiglio comunale all'interno delle commissioni con proposte precise e puntuali su quelle che sono gli atti amministrativi che stiamo portando avanti e come stimolo e collaborazione e anche controllo nei confronti della maggioranza e questo è un aspetto un primo aspetto un secondo aspetto sia dal punto di vista di appartenenza perché mi sembra che il consigliere sia vice coordinatore regionale di Forza Italia sia coordinatore locale di Forza Italia quindi con la responsabilità politica di un partito che probabilmente quando aveva le viele in pop e tirava in questa città era diventato un punto di riferimento della città di Sulmona della provincia e della regione e poi oggi contestualmente ma io l'ho già denunciato nel momento in cui c'è stato il comitato per il punto nascita dove segretari di partiti con la maglia del movimento hanno fatto un'azione di occupazione dell'aula consigliare e non facendo un'azione politica identificandosi con i partiti di iscrizione e quindi non si può fare il presidente senza maglietta poi si rimette si fanno i comunicati stampa come Forza Italia e poi si rivestono ruoli e cariche quindi bisogna fare chiarezza anche su questo punto la cosa positiva è il coinvolgimento da parte dei giovani dei cittadini da qualsiasi forza politica vengono fatte queste situazioni io ritengo che che le idee le proposte che vanno a migliorare le azioni siano accettabili siano auspicabili da qualunque parte e se provengono a me piacerebbe invece non creare un laboratorio dove dice un'altra sul mondo è possibile oggi abbiamo dei problemi che vanno risolti per risolvere questi problemi ci vuole la partecipazione e l'impegno di tutti io da sindaco non ho mai escluso anzi ho chiesto a chiunque sia dalla maggioranza che dalla minoranza avesse progetti sia sul programma di mandato che fuori il programma di mandato di portarli di prendere queste proposte e di portarle avanti per aiutare questa città a uscire dal guado e quindi mi piacerebbe che anche tutte quelle persone che hanno partecipato con delle proposte possano anche presentarle all'amministrazione perché anche in condivisione col programma di mandato che stiamo portando avanti e avete modo di vedere che le problematiche da risolvere ne sono tante si possano prendere in considerazione anche queste proposte migliorative e quindi oggi il ruolo dei partiti oggi c'è il partito democratico che riveste un ruolo di governo riveste un ruolo di azione sulle riforme e in questi giorni ha visto delle manifestazioni importanti sia nella la volta di Renzi e sia nelle altre manifestazioni del partito è indubbio che i partiti debbano aprirsi e questo colgo l'occasione anche per chiedere al mio segretario del partito Fabio Ranalli di accelerare sulla procedura di apertura del partito a tutti coloro che vogliono avvicinarsi di dialogo di ascolto e di partecipazione alla città soprattutto perché anche per un sindaco avere un partito che fa proposte azione e segue la situazione significa rafforzare la propria azione amministrativa quindi bisogna accelerare su questa situazione dopodiché non si può utilizzare il simbolo di Forza Italia a seconda di come tira la situazione perché magari nelle proiezioni che facciamo nelle prossime elezioni amministrative i simboli non tirano e quindi ci vogliono le liste civiche oppure ci vogliono aggregazioni che poi alla fine non sono identificabili io nell'impostazione della mia campagna elettorale ho cercato di dare spazio ai giovani ho chiesto un impegno forte da parte dei giovani però ritengo che oggi bisogna ritornare anche a delle regole importanti perché altrimenti si va verso l'anarchia si va verso io sono rappresentante di me stesso e quindi ritengo che delle regole associate a un nuovo modello di società debbano essere poste in campo e debbano essere sviluppate oggi abbiamo visto la Merkel che come rappresentante premio rappresentante del CDU sta guidando un grande partito di riformatore cristiano in Germania ci sono state le elezioni in Francia con le reazioni a quelle forti azioni di terrorismo fatte dai partiti con una sulle amministrative con una vittoria della destra di Le Pen al primo turno e poi con il recupero da parte delle forze socialiste e progressiste nell'ambito del secondo turno quindi ritengo che oggi le strutture anche innovative dei partiti debbano esserci e debbano esserci soprattutto delle linee guida e quindi il Cinema Pacifico la scorsa domenica è diventato un luogo di confronto con questa manifestazione organizzata dall'associazione Intese Abruzzo però i cittadini vogliono che il Cinema Pacifico torni ad essere una sala cinematografica Sindaco prima di parlarne vogliamo ascoltare le impressioni dei cittadini raccolte da Andrea D'Aurelio Resta spento per il momento il proiettore del Cinema Pacifico di Sulmone si riaccende il dibattito sulla storica sala cinematografica che doveva essere restituita alla città in autunno ma per ora la struttura di Via Roma continuerà ad ospitare gli eventi a chiedere un tavolo tecnico per discutere su un'ipotetica riapertura era stato nei giorni scorsi l'assessore alla cultura Luciano Marinucci in occasione della presentazione dell'edizione numero 33 di Sulmone Cinema per ora Marinucci ha annunciato solo che provvederà a digitalizzare l'impianto per azione che richiede circa 60 mila euro per la riapertura dobbiamo sederci intorno a un tavolino con gli esperti del settore gli amministratori e gli imprenditori che devono prendersi la responsabilità di investire in calza l'assessore che aggiunge la sala è stata valorizzata con ogni tipo di manifestazione specie nel periodo in cui l'auditorium della Santissima Annunziata è stata oggetto dei lavori da parte della sovrintendenza in tanti in queste ore chiedono la riapertura del cinema pacifico nei mesi scorsi residenti del centro storico avviarono anche una raccolta firme stiamo diventando una borgata il cinema va riaperto la destinazione però va concordata commentano i cittadini che suggeriscono almeno quelli intervistati da Onda Tg di associare alle proiezioni anche manifestazioni e spettacoli qui a Sulmona sicuramente fa bene anche al movimento del centro del centro storico è una bella iniziativa se dovesse riaprire poi bisogna vedere in che modalità se solo proiezioni o magari inserire anche altre attività utilizzarlo anche come un teatro come uno spazio una sala congressi si possono fare molte cose si va riaperto il cinema pacifico altrimenti che si fa qua non c'è più niente anzi si potrebbe pure utilizzare la sala per altre manifestazioni tipo attività culturali complessi di tutto però il cinema va riaperto lei cosa ne pensi ma sono d'accordissimo perché è un bene pubblico altrimenti da città che eravamo stiamo diventando una borgata se viene tolta anche quest'altro ultimo spiraglio di possibilità di cultura e di incontri è la fine come accade a Cesena il cinema può essere utilizzato anche come discoteca cene di gala e location di conferenze fa notare uno studente universitario sulmonese presentando la sua ricerca proprio sul palco del Pacifico nel corso di un laboratorio di politica attiva dal basso ho presentato un mio studio sul cinema Pacifico dove ci troviamo adesso nel quale ho fatto vedere come può essere sfruttato diversamente dall'ubicazione attuale tant'è che per esempio partendo dalle sedi il semplice smontaggio delle sedi potrebbero sorgere diverse opportunità l'esempio che ho fatto diciamo il paragone con il teatro Verdi di Cesena nella quale a modi di partita di calcio ho voluto mettere a confronto le opportunità l'esempio è che questa ipotetica partita è terminata sul punteggio di 6 a 1 a favore del Cesena proprio a dimostrazione che 5 opportunità non le riusciamo a cogliere a differenza loro se togliamo le sedi al cinema che cosa può succedere? Discoteca? Cena di gala? Cosa si può fare? Di tutto e di più si può partire dal semplice congresso che abbiamo diciamo anche noi sfruttiamo ad oggi tavole rotonde quindi per le summit aziendali possiamo realizzare cene a tema con associazioni che operano con il metodo della conviviale possiamo fare feste per i giovani possiamo realizzare anche cene con gruppi teatrali comunque cene disco bar come disco dinner come viene intesa oggi che il cinema debba riaprire a quanto pare non ci sono dubbi ma sul da farsi è il momento di aprire una seria riflessione per dirla come Manzoni ai posteri l'ardua sentenza Sindaco allora abbiamo ascoltato queste opinioni che lavoro si sta facendo per giungere alla riapertura che non sarà prossima questo l'abbiamo capito io non questa cosa sono chiaro con la città non ci sono riuscito a cogliere questo obiettivo quest'anno purtroppo il dato è questo il dato anche delle proposte che viene fuori è discordante purtroppo perché se non si è riusciti a raggiungere questo obiettivo è anche perché quando si parla di oggi di cinema si parla di multisale si parla di proiezioni che per un certo numero di popolazione quindi la vendita di un certo numero di biglietti di redditività pari agli investimenti che devono essere posti in campo e quindi l'unica opportunità che oggi può esserci naturalmente inserire questa sala cinegografica con qualche investitore che gestisce già altre sale che può spingere perché fare il cinema solo ed esclusivamente con i biglietti venduti sicuramente non è rimunerativo rispetto agli investimenti ed è per questo che noi per agevolare questo tipo di azione naturalmente abbiamo cercato nel bilancio di quest'anno non ci siamo riusciti purtroppo per gli ovvi problemi legati alle manutenzioni perché l'altro problema era quello della sicurezza delle strade della viabilità delle altre opere pubbliche che abbiamo messo in campo quindi individuare non sono solo i 60 mila euro che servono oggi per il digitale e quindi per la nuova attrezzatura ma anche per diciamo il nuovo arredamento le sedie e l'impianto di audio e certo poi fare questi investimenti e prevedere che poi questi investimenti possono essere sbondati per farci delle cene oppure per farci dei convegni durante la parte della settimana è in dubbio che cozza contro quel discorso della proiezione che poi deve coprire quel budget che serve per remunerare quegli investimenti però una cosa l'abbiamo fatta una cosa io ho chiesto di porre l'attenzione lo farò anche nel corso del Consiglio Comunale di fine anno perché noi abbiamo approvato in giunto una delibera molto importante che andrà in consiglio andrà penso giovedì in commissione per quanto riguarda l'utilizzo del Polo di Santa Caterina che è collegato al cinema che è una struttura annessa e funzionale a quella del cinema pacifico che io ho comunque posto sul tavolo dei discorsi anche con la Camera di Commercio perché la Camera di Commercio noi fermeremo una convenzione importante dove la Camera di Commercio se ne parlano proprio oggi perché sono stati qui a Sulmoni rappresentanti della Camera di Commercio metterà a disposizione delle risorse finanziarie poi si precederà ad un ambando pubblico per quanto riguarda la gestione e l'utilizzazione di spazi Ovidio che vede coinvolto l'intero complesso di Santa Caterina in uno spazio dedicato solo ed esclusivamente alla figura del poeta Ovidio con la partecipazione delle imprese con la partecipazione dei professionisti e quindi io ritengo che concluso questa operazione di Santa Caterina ritengo che nel discorso che noi andremo a fare sicuramente la questione del cinema pacifico deve essere rimessa in campo io comunque farò uno sforzo anche sul bilancio di previsione indubbiamente è giusto anche per tranquillizzare l'assessore Marinucci che purtroppo ha cercato in tutti i modi di rendere viva quella sala lo ha fatto con delle manifestazioni lo ha fatto con i convegni lo ha fatto con le altre attività lo farà sotto le festività natalizie con dei concerti che si faranno ma sicuramente c'è bisogno di un investimento un investimento che deve essere inserito nell'ottica di un'utilizzazione più ampia di quella struttura che collegata a Casa Uvidi e collegata al nostro teatro permettono di riportare a disposizione della città quella struttura anche per le proiezioni cinematografiche e quindi sarà un oggetto del nostro lavoro muove in questa direzione proprio il tavolo tecnico che vuole convocare la sessione Mariducci con le istituzioni le associazioni e gli imprenditori che seguirò in prima persona perché purtroppo è uno dei problemi della nostra città legata anche alla concezione diversa di cinema con le multisale e quindi ci rendiamo conto che anche alcune multisale della zona fa fatica naturalmente a raggiungere quei numeri per la redditività di quell'investimento e quindi sono preferite sempre quelle strutture che si trovano nelle città oppure nei comprensori dove si ha molta affluenza di pubblico è comunque un problema che ha la nostra città è un problema da risolvere e sul quale io naturalmente mi impegnerò in prima persona per risolverlo e quindi mentre il cinema purtroppo deve attendere ancora ci sono dei lavori che sono terminati e ci riferiamo all'auditorium dell'annunziata la sovranendenza ha riconsegnato le chiavi e dunque sono terminati i lavori di ristrutturazione sindaco un'altra struttura che ritorna fruibile alla città di Sulmone sappiamo l'importanza dell'auditorium dell'annunziata ospita concerti della camerata musicale convegni appuntamenti culturali di vario genere quindi una struttura importante che ritorna a disposizione dei sulmonesi mi riservo di tornare anche per una pubblicità per una comunicazione più precisa su questa su questa riconsegna perché è un fatto importante la realizzazione da parte di importanti lavori una convenzione che stiamo che stiamo perfezionando con la casa santa dell'annunziata per quanto riguarda l'utilizzo quegli spazi la risistemazione proprio in questi giorni la pulizia dei musei e la sistemazione delle aree esterne proprio per rendere fruibili non solo ai nostri cittadini ma ai nostri turisti quegli spazi molto importanti anche su quella parte legata ai servizi turistici e quindi ci saranno degli investimenti previsti in una scheda dei fondi FAS di cui abbiamo parlato prima e quindi stiamo valutando attentamente in giunta anche la futura utilizzazione perché oltre a quella della concertistica quella dei convegni riteniamo che possa essere una struttura pulifunzionale da mettere a disposizione delle attività turistico-culturali della nostra città si stanno completando altri lavori il contratto di quartiere il contratto di quartiere ci sarà una riconsegna adesso è partita la fase la fase del bando per l'assegnazione di questi 64 alloggi lo vogliamo dire per giovani coppie anziani disabili e studenti e studenti si stiamo predisponendo la bozza del regolamento andrà in giunta questa settimana e quindi approvata quella quelle regole con le quali poi possono essere assegnate gli alloggi spero prima della fine dell'anno poter rientrare in possesso di quella importante struttura che a mio avviso rivestirà anche un ruolo di punto di riferimento per quella zona perché ci sono degli spazi diciamo da utilizzare sul piano terra da destinare alle attività sociali soprattutto delle persone residenti nella zona peppe che possono così avere un punto di riferimento di aggregazione per svolgere le attività parlare delle problematiche essere di supporto anche nei problemi che noi abbiamo con l'amministrazione comunale abbiamo qualche giorno fa terminati i lavori della rotonda abbiamo effettuato la risoluzione del consensuale con la ditta che aveva anche gli altri lavori per cui procederemo noi come comune a sistemare gli altri lavori della piazza e dell'area del parco giochi in modo da poter riconsegnare quelle opere pubbliche a quella parte della nostra città fortemente e densamente abitata ma soprattutto anche per questioni di sicurezza che erano state evidenziate quindi la rotonda nasce per un motivo di sicurezza gli interventi sono stati fatti anche sull'illuminazione faremo una seconda rotonda all'incrocio di via Lamaccio dove adesso stiamo predisponendo un impianto di semaforo e quindi spero che queste opere possano naturalmente mettere in sicurezza i nostri concittadini e rendere più fruibili quelle zone e poi c'è quella dell'incoronata di rotatoria quando sarà inaugurata stanno ancora finendo sono in corsi lavori non so dire la data precisa ma voglio immediatamente dedicarmi all'inizio dell'anno prossimo l'abbiamo già fatto con l'iscrizione delle opere pubbliche nel nostro bilancio alla rotonda delle Marane perché questa è un'altra opera che io ritengo importantissima ai fini della sicurezza di cui non ce ne siamo dimenticati abbiamo fatto una serie di incontri con l'ANAS ne ho parlato qualche giorno fa col presidente della regione ritornerò alla carica su questa situazione per ottenere quei finanziamenti che poi ci possono permettere di fare un intervento anche su quella su quella su quella zona stiamo seguendo i lavori della scatrinata di Santa Chiara che sono partiti sono a metà c'è la situazione del ponticello di via Stazione Dentro d'Acqua c'è un dialogo con la regione anche per riprendere in mano tutta la questione del ponte del ponte di via Gorizia per una diversa utilizzazione del finanziamento sempre in termini di sicurezza e quindi aperto una discussione con la regione e poi sull'ospedale io ho chiesto al presidente D'Alfonso di venire prima di Natale perché noi abbiamo fatto la posa della prima pietra poi siamo stati attaccati che i lavori non iniziavano e quindi che era una prima pietra fantasma oggi i lavori sono a buon punto si stanno completando la messa in sicurezza della nuova sono in fase di realizzazione delle sale operatorie si è fatto già lo sbancamento e quindi le fondamenta per quanto riguarda l'ampliamento quindi è ritenuto opportuno invitarlo nella nostra città per rendere conto del lavoro fatto fino ad oggi e quindi io spero che manderendo questo passo possiamo riuscire anche a naturalmente a completare i manti stradali per i lavori che abbiamo programmato e che sono in corso gli interventi sul centro storico ecco infatti ci stavo arrivando adesso partiranno i lavori sul manto stradale del centro storico e di sistemazione dell'arredo urbano il tutto rientra nella riqualificazione in questo soggetto di riqualificazione del centro storico che poi dovrà prevedere anche l'entrata in vigore dei nuovi orari della ZTL si partirà con questa fase sperimentale io ho avuto una riunione importante con la mia maggioranza nei giorni scorsi ho fatto una sintesi delle posizioni del lavoro che era stato fatto mi sono riservato di studiarlo in questa settimana per cercare di capire qual è la soluzione migliore è indubbio che quell'azione verrà portata avanti stiamo definendo gli ultimi dettagli i provvedimenti vanno presi in maniera più complessiva rispetto al semplice discorso degli orari perché il problema del centro storico è un problema dei commercianti del centro storico è un problema molto importante ho letto l'appello fatto anche oggi da Cerescott e Confesercenti per quanto riguarda l'aiuto e il sostegno al credito delle piccole e medie imprese e quindi ritengo che questi interventi sostanziali che vanno a ridisegnare la viabilità che vanno ad investire per quanto riguarda la viabilità e gli arredi possono dare una spinta per una ripresa abbiamo fatto uno sforzo anche per Natale con diciamo queste attività che domani partirà il 18 verrà inaugurato il piccolo mercatino che faremo a piazza 20 settembre e quindi le attività programmate nel cartellone della cultura e dei grandi eventi per cercare di sostenere queste festività con un occhio naturalmente sempre alle persone che sono meno fortunate in questo momento ho avuto modo di dialogare con sua eccellenza per quanto in questi giorni legati al giubilea anche sulla grande iniziativa che sta mettendo in campo dove naturalmente il comune si è speso immediatamente nel momento in cui sono stati presentati i progetti quindi per la realizzazione della casa di Zaccheo sono riuscito a parlare con Monsignor Andreatta sabato scorso nell'ambito di un incontro che abbiamo fatto a Pescara con il Presidente Alfonso per il turismo religioso e ho strappato un impegno a Monsignore di essere presente qui a Sulmona per individuare quelle che sono le eccellenze il Presidente Alfonso mi ha confermato il finanziamento di 12 milioni di euro per la Basia Celestiniana nell'ambito del Masterplan e quindi io ritengo che con quelle disponibilità si possa arrivare ad una definizione di quella che sono gli investimenti sull'intera Basia Celestiniana che diventerà il frio all'occhiello della nostra città occorre oggi avviare un'azione in Consiglio Comunale quindi lo faremo penso prima del 15 con l'approvazione definitiva delle norme tecniche di attuazione la novità è che sono abbiamo avuto delle prescrizioni da parte della provincia prescrizioni che sono in qualche modo sanabili gli uffici stanno rispondendo a quelle prescrizioni quindi con il rientro delle norme tecniche approvazione in Consiglio Comunale avremo la discussione sul piano regolatore e quindi ritengo che un'attenzione particolare sull'area debba essere posta in essere arriverà a fine mandato con il nuovo piano regolatore? sicuramente con il lavoro in corso ma io ritengo l'obiettivo che nessuna amministrazione è riuscita a raggiungere in tutti questi anni sicuramente non lo so io ci provo ci provo con tutte le mie forze a riuscire a porre in essere tutti gli atti lo voglio fare abbiamo già lavorato fatto 4-5 incontri con i tecnici oggi però chiudiamo le norme tecniche ho chiesto al presidente della provincia dell'Aquila di avviare un'azione per rivedere le norme del PRT per quanto riguarda la zona industriale che non riguarderà solo Sulmona ma riguarderà anche Avezzano e l'Aquila per cercare di capire che tipo di spinta possiamo dare per i nuovi investimenti e quindi io credo che fra due anni e mezzo si possa arrivare con un lavoro già avviato sul quale puoi arrivare ad una definizione sindaco concludiamo questa trasmissione parlando di un premio che le sarà dato venerdì leggo il comunicato stampa che è stato fatto proprio oggi venerdì 18 dicembre all'auditorium Elio Sericchi dell'Aquila il CONI conferirà al sindaco di Sulmona Peppino Ranalli una pubblica attestazione per l'impegno profuso nel mondo dello sport il riconoscimento rientra nelle eccellenze che annualmente il CONI sceglie tra i rappresentanti della politica della scuola e di tutte le categorie che si adoperano per la crescita territoriale delle attività legate al mondo dello sport e quindi sindaco lei riceverà questo premio che il CONI le darà venerdì e quindi è anche un omaggio per un riconoscimento per quello che è stato fatto nella città di Sulmona con i recenti campionati italiani di atletica leggera cadetti e cadette che hanno che hanno richiesto uno sforzo davvero notevole da parte dell'amministrazione comunale il primo sforzo lo ha fatto l'amatori Serafini il professor Carrozza e tutti i dirigenti e tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione di quell'importante evento e quindi l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte con me con l'assessore Marinucci con tutti coloro che hanno dato una mano l'assessore Milan per quanto riguarda che voglio ricordare in questa sede perché me ne dimentico sempre per quanto riguarda la preparazione della parte logistica dei campi e delle situazioni io sono contento di questo premio che mi daranno ho cercato di dare la massima disponibilità agli organizzatori l'anno scorso con un meeting quest'anno con il campionato italiano l'anno prossimo lo faremo con il giro d'Italia voglio capire bene anche tutte le altre attività perché abbiamo altre società sportive come quelle del basket della pallavolo o del calcio stesso con gli sforzi che si stanno facendo per cercare di rilanciare questa situazione una cosa è certa con i tagli che abbiamo avuto da parte del governo con i tagli che ci saranno con una riforma tributaria ancora con un punto interrogativo dell'anno prossimo le disponibilità con una spesa del sociale che sale sempre con i tagli del sociale che abbiamo avuto dalla regione diventa sempre più difficile individuare le risorse con una politica equa nei confronti dei cittadini quindi diventa sempre più difficile sostenere non solo economicamente ma anche con altri interventi queste manifestazioni per cui io l'appello che faccio agli imprenditori alle fondazioni agli istituti affinché diano una grande mano a questo mondo del volontariato c'è tanto volontariato molti dirigenti sportivi pagano di loro tasca le spese che sostengono durante le trasferte per gli atleti c'è un grande sforzo e quindi un appello alle nostre imprese di sostenere l'attività dello sport che è un'attività sia agonistica ma soprattutto un messaggio di condivisione sociale di valori che tiene i nostri ragazzi sulla strada giusta rispetto al mondo che oggi va sempre più veloce e che porta sempre più le persone fuori dal sociale fuori dallo sport e fuori dalla famiglia e un premio dunque anche agli impegni futuri per lo sport benissimo benissimo quindi ci lasciamo sindaco con questo argomento con l'argomento sportivo abbiamo colto l'occasione per dire di questa cerimonia che ci sarà venerdì organizzata da Alconi la ringraziamo per la partecipazione a questo programma e dunque sindaco ci rivedremo martedì prossimo sempre puntuali alle 21.30 quella di martedì sarà l'ultima trasmissione del 2015 e quindi tracceremo un bilancio di quest'anno che sta per concludersi grazie al sindaco Peppino Ranelli grazie buonanotte a tutti e a voi grazie a voi tutti della cortesa attenzione ci rivedremo martedì prossimo sempre dalle 21.30 grazie a tutti 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 grazie a tutti